Amici sportivi, benvenuti a questo nostro appuntamento con Totomarket Scommesse. Siamo a una puntata che sarà l'ultima prima di andare in una pausa natalizia e poi ci risentiremo all'anno nuovo. Ancora una volta molta carne al fuoco, quindi direi di cominciare subito con il dare uno sguardo a cosa è successo la settimana scorsa. Perché poi voglio riuscire a avere il tempo per vedere insieme tutte le quote partita per partita, oltre che delle due squadre siciliane di Serie B che ci interessano in modo particolare, cioè di Trapanelli e Palermo, anche per tutte le partite della Serie A, cosa che la scorsa settimana sono arrivato a stento a fare. Allora subito, settimana scorsa, per cominciare a ricordarci innanzitutto come sono andate le cose in casa Catania, in casa Trapani e in casa Palermo. Il Catania non aveva certamente una squadra da poco conto da affrontare, perché è un Verona che, come vedete anche dalla classifica, è messo molto bene, ma è messo bene perché gioca anche un buon calcio, anzi ultimamente ha avuto anche leggera flessione. Quindi per il Catania, che aveva necessità di fare punti, non era certamente un avversario facile, infatti gli Etnei non sono andati oltre il pareggio, è finita 0-0 questa partita, però è stato un punto che ha mosso un pochettino la classifica, perché il Catania così è andato a quota 10, approfittando anche dei risultati di altre squadre. Adesso, per esempio, la squadra penultima è classifica e Bologna è a quota 12, il Livorno è a 13, diciamo che non è proprio un punto malaccio. Fra l'altro un Catania che ha avuto anche tante occasioni per andare in rete, purtroppo non ci è riuscito, ma comunque, per quello che possiamo dire, si è vista una bella scossa nell'ambito di tutto l'entourage etneo. Il problema è che nella prossima partita il Catania giocherà a una partita proibitiva, perché deve giocare contro la Roma, una Roma che già a Milano contro il Milan ha dimostrato innanzitutto è sempre l'unica squadra imbattuta della Serie A. Tra l'altro è anche la migliore difesa sempre della Serie A, nonostante i due gol che ha subito, e tra l'altro, ve lo farò vedere anche tra poco, è anche la seconda migliore difesa in campo europeo. Dico la seconda perché fino alla settimana scorsa era la prima squadra, la migliore difesa in campo europeo. Con i due gol subiti dal Milan, adesso la media gol subiti è più bassa per il Lille in Francia. Dicevamo lo 0-0 di Catania a Verona, ha portato il Catania a quota 10 in classifica, mentre per il Palermo le cose sono andate molto meglio, perché la squadra è rosa-nero, grazie al successo sul Cittadella per 3-1, con due gol iniziali di testa del sempre più sorprendente Munoz, un Palermo che con questo successo, e approfittando anche della mancata vittoria interna dell'Empoli in casa contro il Cesena, è primo in classifica con un punto di vantaggio sullo stesso Empoli. Quindi una vetta solitaria quella per il Palermo, che ripeto è andata in gol due volte nel giro di 3 minuti, Conte Cittadella al 23esimo e al 26esimo, sempre con Munoz in entrambi i gol di testa. Poi Andercovic, un altro gol di Andercovic in finale di primo tempo, ha fatto tornare le speranze al Cittadella di poter uscire imbattuto dal Renzo Barbera. Ci ha pensato Hernandez, in chiusura di partita, a fissare il risultato sul 3-1. Ripeto, un 3-1 che porta il Palermo da solo in vetta alla classifica. Il Trapani, anche il Trapani non aveva un avversario facile. Era un Trapani che ospitava l'Avellino, Avellino squadra piuttosto tosta, anche qui la classifica non è bugiarda, perché è un Avellino che in questo momento è a quota 30, al quarto posto in classifica, squadra che gioca bene. squadra che è anche piuttosto temibile, gioca un calcio abbastanza offensivo. Insomma, per il Trapani questo pareggio non è assolutamente da considerare un brutto pareggio, a parte per il valore dell'Avellino, testimoniato dalla classifica della squadra erpina, ma anche perché secondo me è un pareggio conquistato contro una squadra che darà ancora molto filo da terra, torcere, e soprattutto comunque ha confermato che il Trapani c'è. C'è perché, ripeto, forse altre squadre un po' più deboli del Trapani avrebbero potuto anche perderla questa partita contro l'Avellino. Anche perché l'Avellino era andato in vantaggio, non in chiusura, insomma, a metà del secondo tempo, al 77 con Arini, e lì una squadra che gioca in casa e che fino al 77 non è riuscita a segnare, subire un gol in casa, insomma, o si reagisce subito, cosa che il Trapani ha saputo fare bene, perché ha pareggiato praticamente subito dopo con Matteo Mancosu, oppure rischi di perdere la partita. Quindi bene il Trapani, con questo pareggio, ripeto, anche se è in casa, però conquistato contro una squadra tosta come l'Avellino. Trapani che va a quota 23, in questo momento la squadra Granata, allenata da Boscaia, ha 4 punti di vantaggio sulla zona pericolosa, che in questo momento è, diciamo, occupata dal Bari a quota 19, a quinto ultimo posto in graduatoria, quindi un Trapani che ha 4 punti dalla zona a rischio, ma è anche a 3 soli punti dalla zona, diciamo, verde, che è quella che conta per chi vuole accedere poi ai play-off, che quest'anno, per quanto riguarda la Serie B, interesseranno ben 6 squadre, cioè le squadre che arriveranno dal terzo posto, le 6 squadre che praticamente arriveranno dal terzo posto in poi. Detto del Trapani, anche, che ha pareggiato questa sua partita, uno sguardo alle classifiche, soprattutto quelle di Serie A e Serie B, che ci interessano da vicino, perché la Juventus adesso ha 5 punti di vantaggio sulla Roma, vero che la Roma è ancora imbattuta, ed è l'unica squadra imbattuta di questo campionato, ma è anche vero che ha perso anche altri due punti nei confronti della Juventus. La Juventus, che sta dominando questo campionato, aveva già fatto l'anno scorso un campionato in cui, un campionato nel quale la Juventus aveva dominato in lungo e in largo. Quest'anno, pensateci un po', la Juventus in questo momento ha 5 punti in più rispetto ai corrispondenti punti che avevano la sedicesima giornata della scorso campionato. Questo per dare un po' un'idea, poi, supportata dai numeri, di che campionato sta facendo questa Juventus. Se non fosse stato per la Roma, che nelle prime dieci giornate di campionato aveva un po' distratto l'attenzione su la Juventus, la Roma ce l'ha fatta per le prime dieci giornate, poi ha fatto quattro pareggi. Insomma, la Roma, diciamo, ha un po' offuscato il gran campionato che sta facendo la Juventus, perché, ripeto, è un gran campionato che, ripeto, ha portato alla scorsa stagione a già 5 punti in più questa squadra. Anche se, ripeto, ha già perso una partita, ma praticamente su 16 gare ne ha vinte 14, ne ha persa una soltanto contro la Fiorentina, tra l'altro in una maniera incredibile rocambolesca, perché la Juventus a Firenze vinceva 2-0, poi, se vi ricordate, subì quattro gol nel giro di 15 minuti, 20 minuti, e cosa del genere, cosa stranissima per la Juventus. Brava, comunque, la Fiorentina, ricordiamoci, perché è una gran bella squadra, e poi il pareggio fuori casa, il pari contro l'Inter, quindi, per il resto, la Juventus ha dominato sinora questo campionato. Anche se, ripeto, la Roma è l'unica imbattuta. Vediamo il resto della graduatoria, abbiamo già visto che il Catania è a quota 10 in questo momento ultimo in classifica. Diciamo che, per quanto riguarda gol fatti e subiti, il migliore attacco è quello in verde dell'Inter, 36 gol all'attivo fino a questo momento. La migliore difesa, invece, è quella della Roma, che Dicone ha subiti 7. Il peggior attacco è quello del Catania, che ha segnato solo 10 gol. La peggiore difesa, invece, è questa del Sassuolo, che Dicone ha subiti già ben 35. Per quanto riguarda i ritardi, non ci sono segnalazioni particolari per quanto riguarda il ritardo di vittorie. C'è un ritardo del pareggio da 13 turni a parte della Juventus e da 9 partite per quanto riguarda la Fiorentina. Queste sono le due squadre che da più tempo non pareggiano in Serie A. Per quanto riguarda, invece, le serie positive, chiaramente la più lunga è quella della Roma, che non perde, praticamente, da inizio del campionato, quindi da 16 partite. Uno sguardo sempre in Serie A, diamolo alla classifica dei marcatori, perché Giuseppe Rossi continua a dominare questa classifica, Giuseppe Rossi della Fiorentina. 13 gol fatti, sinora, dall'attaccante Viola. Ha usufruito, praticamente, però, di tre rigori di questi 13 gol. Ripeto, Rossi ne ha segnati tre sul rigore. Poi, dopo Rossi, è spuntato tutto a un tratto Tevez. Tevez è spuntato tutto a un tratto perché domenica scorsa, nell'ultima partita della Juventus, ha segnato ben tre gol, quindi una tripletta, che ha portato Tevez a dieci reti. Un Tevez che ha segnato soltanto un gol di questi dieci sul calcio di rigore. Chi segna molto sul calcio di rigore è Giorginio, del Verona, che dai suoi sette gol segnati sinora, ben cinque li ha realizzati sul rigore e due soli sono i gol segnati dall'attaccante del Verona su azione. Da notare un'altra particolarità per quanto riguarda questo attaccante del Verona, in pratica segna solo ed esclusivamente nel secondo tempo, almeno ha segnato sinora solo ed esclusivamente nel secondo tempo, non sappiamo come andranno le cose in futuro. Quindi, per il momento, c'è questa particolarità che il Giorginio del Verona nel primo tempo non ha mai segnato. Sette gol, tutti nel secondo tempo. Un po' la stessa cosa però vale per Cerci, vedete, Cerci ha otto gol all'attivo, uno solo nel primo tempo e ben sette nella ripresa. Stavo notando il rendimento invece in casa e fuori casa, insomma non ci sono molte differenze, forse un po' Berardi del Sassuolo che dei suoi sette gol segnati, cinque fuori casa e due soli, in casa non ci sono altri rapporti particolari da mettere in evidenza. Andiamo in Serie B. La classifica completa la vedete sul vostro teleschermo, spero che sia abbastanza chiara, ho portato modifiche alla grafica per darvi la possibilità di rendere tutto più visibile. Allora, diciamo del Palermo che è in testa e dell'Empoli che è al secondo posto. Ricordiamo che alla fine della stagione due squadre andanno direttamente promosse in Serie A, poi per la terza promozione ci saranno i play-off che coinvolgeranno le sei squadre dal terzo posto in poi. Terzo posto nel quale in questo momento c'è il Crotone che è stato capace di vincere in trasferta segnando tre gol sul campo del Latina. Quindi un Crotone molto ben messo è a quota 31, l'Empoli a 33, il Palermo a 30 punti. Da notare che è la squadra che pareggia di più, che ha pareggiato sinora di più, ma anche di molto, è il Brescia che ha pareggiato 11 partite, mentre per trovare la squadra che ha pareggiato di più dopo il Brescia bisogna scendere a quota 8 dove troviamo tre squadre che hanno pareggiato 8 volte, sono Cesena, Latina, il Siena, ma anche il Novara e Cittadella. Insomma, le squadre che hanno pareggiato di più dopo il Brescia sono a tre pareggi di distanza, quindi significativo questo eccesso di pareggi per il Brescia. Tra poco andremo a vedere le partite che sono questa settimana in programma per la Serie B e vedremo, ci ricorderemo insieme dove deve giocare il Brescia in questo prossimo turno di campionato. Per adesso notiamo che il migliore attacco è sempre quello del Siena, che ha segnato 31 gol, ma il Palermo adesso è a quota 30, cioè ha un solo gol dal migliore attacco, sia il Palermo che il Crotone. La migliore difesa invece è sempre quella del Lanciano, che di gol ne ha subito i 13. peggiori attacchi, Padova e Regina che hanno segnato solo 13 gol, peggiore difesa quella della Juve Stabia che purtroppo non riesce a staccarsi ma neanche a ridurre il distacco dalla penultima in classifica. La Juve Stabia ultima a quota 8, la Regina penultima a quota 13 e tra l'altro la stessa Regina già ha quattro punti di distacco da Cittadella e Padova che sono a quota 17. Insomma, per la Juve Stabia in questo momento la zona salvezza è a ben, diciamo, la zona spareggio, a ben 9, no scusatemi, a ben, sì, 9 punti dove ci sta il Cittadella in questo momento a quota 17. Quindi una Juve Stabia che non riesce, almeno sinora, non è riuscita a rimettersi almeno nelle condizioni di poter sperare. È una Juve Stabia che non vince da 13 partite di campionato. l'altra serie negativa più lunga è proprio quella del Cittadella che non vince da 9 partite. Questo mi stupisce molto, devo dirvi, perché Cittadella, come ho avuto magari occasione di dirvi in qualche altra trasmissione, è una squadra che stranamente troviamo in queste posizioni così basse in questo momento del campionato, perché è una squadra che normalmente da diversi anni non apporta molte modifiche alla formazione, l'allenatore è sempre lo stesso e si è sempre comportato bene. Le squadre così fatte normalmente partono pure meglio un po' delle altre, perché le altre squadre che hanno rinnovamenti, prima, diciamo così, di trovare un assetto definitivo, magari pagano qualche cosa in termini di punti, in termini di prestazioni, nelle prime decigiornate, eccetera. Quindi le squadre invece già sono collaudate, hanno sempre lo stesso gioco, giocatori che nel 90% ci conoscono tra di loro, hanno, diciamo, c'è un certo gruppo che già in qualche maniera sa cosa deve fare in campo, non ha direttive nuove di nuovi allenatori, eccetera, eccetera. Invece questa cittadella quest'anno ci sta stupendo, perché lo troviamo nelle parti basse della classifica, anche se sono all'avviso che già dal prossimo turno contro il Bari, credo che sia contro il Bari, adesso ne avremo conferma durante la grafica, credo che possa già tornare alla vittoria anche se la squadra barese non è certamente un avversario facile, vero è che è proprio sopra il Cittadella, perché tra Cittadella e Bari ci sono praticamente due punti di distacco, ma è anche vero che il Bari è partito con tre punti di penalizzazione, quindi in teoria, in pratica, il Bari di punti ne ha conquistati il 22, sarebbe, diciamo, quasi tranquillo a metà classifica. Lo vediamo più tardino quando andremo a visualizzare le note per quanto riguarda la partita del Cittadella, per adesso vi ricordo che oltre alla Juve Stabia che non vince da 13 turni, non vince da 9 il Cittadella e non vince da 8 turni, anche il Cesena, Cesena che come vedete non è in una posizione bassa di classifica, il Cesena in questo momento è in piena zona pre-off insieme a Varese e Latina a quota 26 eppure non vince da ben 8 turni di campionato. Adesso vedremo anche dove giocherà il Cesena ma credo di averne tenuto conto anche nel mio pronostico principale. La squadra che non perde da più tempo invece in Serie B in questo momento è il Pescara che pur essendo sesto in classifica ripeto, è la squadra che non perde da più tempo perché un po' a rotazione al Palermo ha presso con il Latina, l'Empoli ha presso una partita cinque turni fa il Crotone e la sua partita da Pei lanciano la pezza nell'ultimo turno di campionato l'Avellino la pezza tre partite fa insomma la squadra che in questo momento ha la migliore serie positiva è quella del Pescara che è a quota 28 in classifica. Vediamo anche la classifica dei marcatori della Serie B anche perché troviamo Matteo Mancosu in testa a questo graduatore dei marcatori del torneo cadetto Matteo Mancosu capace di andare in gol anche nell'ultimo turno di campionato quando ha pareggiato subito dopo il gol che aveva portato in vantaggio l'Avellino un Matteo Mancosu che comunque è perfettamente equilibrato nella distribuzione dei gol tra primo tempo e secondo tempo lo stesso discorso dicasi per casa e fuori casa insomma per Matteo Mancosu segnare in casa o fuori è quasi la stessa cosa segnare nel primo tempo e nel secondo tempo è quasi la stessa cosa cosa diversa invece per esempio per quanto riguarda primo tempo e secondo tempo per Antenucci dei suoi 9 gol 8 nel primo tempo e uno solo nella ripresa mentre per quanto riguarda Babacard del Modena per esempio invece segna molto di più in casa e pochissimo in trasferta vedete Babacard dei suoi 9 gol 8 li ha segnati in casa uno solo invece in trasferta segna poco in trasferta anche Gennetti del Siena dei suoi 7 gol Gennetti 6 in casa e uno in trasferta ricordiamoci che in questa classifica dove c'è anche Hernandez a quota 10 insieme a Maniero del Pescara c'è anche Belotti a quota 6 Belotti che però ha questa curiosità piuttosto singolare ma anche Belotti preferisce segnare più nel secondo tempo che nel primo fino a questo momento Andrea Belotti non ha segnato neanche un gol nel primo tempo tutti e 6 li ha segnati sinora nella ripresa dicevamo dei rigori chi ha usufruito finora di maggior numero di rigori è proprio Hernandez del Palermo che dei suoi 10 gol solo 6 li ha segnati su azione e 4 su calcio di rigore sempre relativamente alla settimana scorsa andiamo a dare uno sguardo a quelle che sono state le nostre previsioni anche perché in serie B ci siamo comportati abbastanza bene questo lo dico perché dei 4 pronostici che avevo indicato scusatemi in serie A più che in serie B perché abbiamo appunto il quadro della serie A sono andate bene tutte e 4 perché del Catania ricordo non avevamo molto diciamo non amavamo molto il segno 1 non perché il Catania non lo meritasse ma perché appunto sapevamo dell'osticità del Verona in effetti abbiamo suggerito l'1x come vedete ed è uno dei 4 risultati suggeriti che abbiamo preso Fiorentina e Bologna anche se la quota mi era poco invogliante a 1,40 ci piaceva molto l'idea della vittoria della Fiorentina che l'ho messa lo stesso anche se in genere a me non piace molto diciamo suggerire risultati facili e pagati poco come per esempio io come tantissima tutta l'Italia convintissima dell'1 della Juventus però a 1,15 non vale neanche la pena rischiare così come l'1 della Lazio contro il Livorno pagato solo a 1,50 era facilissimo da pronosticare qui ho pronosticato la Fiorentina perché proprio ne ero molto molto convinto di questa vittoria della Fiorentina contro il Bologna e dal 3 a 0 alla fine ha premiato questa previsione ci piaceva molto anche l'hover di Sassuolo di Sassuolo anche se era pagato soltanto a 1,50 era proprio l'hover più basso cioè quello meno quotato di tutti gli over della Serie A della scorsa settimana ma ci piaceva molto e l'avevamo suggerito e poi se vi ricordate mi piaceva molto la doppia Chance X2 a 1,54 pagata per la Roma fuori casa a Milano d'altronde ripeto molto ben pagata perché considerando lo stato di forma e come stanno giocando in questo momento Milano e Roma la Roma avrebbe dovuto essere addirittura favorita mentre invece l'1 era pagato meno del 2 l'1 era pagato a 2,35 il 2 era pagato a 2,90 a me questa doppia Chance X2 a 1,54 piaceva molto e ve l'ho suggerita e bene o male chi ha seguito questo suggerimento non ha perso continuiamo con il Tissedassi è andata a buon fine anche questa settimana dopo la goleata della settimana scorsa anche questa settimana il nostro Tissedassi innanzitutto vi ricordo che cos'è è praticamente quel trittico di partite quel terno composto da partite con risultati molto facili ci sono tanti risultati facili però spesso anche quelli facili saltano noi ne scegliamo tre che sono quelli che diciamo sì per vincere da due volte e mezzo a tre volte la posta cioè senza andare a cercare le grosse vincite quindi diciamo che più un suggerimento per coloro che si possono permettere di giocare qualcosa in più e che si possono permettere quindi di o raddoppiare o triplicare che giocano appunto per vincere molto però anche rischiando molto perché per vincere mille euro con con quote di due volte e mezzo o tre bisogna già giocare oltre 250 300 euro comunque ripeto questo è un nostro principio per quanto riguarda coloro che possono permettersi diciamo di spendere una certa cifra o quantomeno anche per coloro che magari non possono esporre tanta c tanta tanta disponibilità però sono disposti ad aspettare di investire settimana dopo settimana perché per esempio chi avesse eseguito questo nostro suggerimento in queste ultime tre settimane supponiamo che partiva con una giocata di 20 euro nella prima settimana questi 20 euro diventavano mettiamo tre volte la posta già sono 60 euro se questi 60 euro nella settimana eccessiva diventavano anche soltanto con due volte e mezzo la posta 60 più 60 sono 120 più 30 160 già arrivano a 160 magari rinvestire anche questa settimana è già arrivata a 500 euro partendo però da 20 euro quindi se ci si sa ci si sa accontentare si può anche partendo con piccoli con piccoli capitali diciamo così riuscire anche ad arrivare anche a grosse quote chi invece le dispone già le grosse quote e un grosso capitale invece ripeto giocando in questa maniera può già trovarselo raddoppiato addirittura triplicato rischiando il minimo indispensabile perché quando si punta su certe squadre e soprattutto oltre che su certe squadre bisogna vedere anche se queste squadre hanno anche qualche motivazione in più che so io queste squadre ce ne sono tante se ogni settimana vincessero Bayern Monaco Borussia Dortmund Paris Saint Germain Schalke 04 Barcellona Real Madrid Juventus se ogni settimana queste squadre vincessero sempre si arricchirebbe non è così perché ogni tanto capita o una volta stecca uno o una volta stecca l'altro o una volta non vince l'Ajax un'altra volta non va a vincere il Porto un'altra volta non va a vincere lo Sport in Lisbona che sono le più grosse squadre europee capita ripeto che si fa quindi anche tra le grosse squadre bisogna anche avere diciamo sì quell'accortezza di poter scegliere quelle un po' migliori e questo io lo faccio sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto anche dal punto di vista statistico perché poi a quel punto lì tra tutte le grosse squadre anche dal punto di vista statistico a volte sceglierne una o sceglierne un'altra può farci chiudere o meno una scommessa anche se soltanto di tre squadre detto questo allora abbiamo preso la settimana scorsa il 2 del Paris Saint-Germain il 2 la vittoria dello Schalke in casa contro il Fiburgo 2 a 0 la vittoria a Barcellona anche se di misura sul Villarreal e questi tre segni pagavano circa due volte e mezzo la posta e quando dico circa ve lo dico per il semplice fatto che dipende dalle quote io per esempio normalmente ve l'ho già detto per una questione di grafica per una questione di importazione di dati insomma mi viene più facile usare quelle di match point ma ci sono gestori che hanno sempre sulle stesse partite a volte qualche punto in più a volte qualche punto in meno quindi mediamente a due volte e mezzo la posta questo è il nostro RISDAS della scorsa settimana vediamo adesso che cosa ah insomma innanzitutto il riepilogo di tutti i risultati della serie della scorsa turno anche perché mi sono dilungato un po' troppo già siamo arrivati a 30 e passa il minuto di trasmissione allora la settimana scorsa è giusto per ricordare che cosa ci sono state due sole vittorie in trasferta hanno vinto la Sampdoria fuori casa contro il Chievo già nel primo tempo c'era questo segno 2 e ha vinto il Torino fuori casa con l'Udinese per 2 a 0 il primo tempo era 0 a 0 da notare che sono uscite 8 somme gol pari la scorsa settimana anche se i pareggi sono stati soltanto 4 ci sono state 8 somme gol pari perché dei risultati che non sono finiti in parità c'è stato il 4 a 0 a Juventus che pur essendo una vittoria è una vittoria con somma gol pari il 2 a 0 della Lazio antia questa vittoria ma con somma gol pari Napoli Inter 4 a 2 antia questa è una vittoria con somma gol pari e Udinese Torino 0 a 2 vittoria quindi senza pareggio ma con somma gol pari nella serie B invece due soli successi interni quindi due sole vittorie in casa hanno vinto praticamente soltanto il Palermo ed il Varese il Palermo con Cittadella 3 a 1 e il Varese in casa con lo Spezia per 4 a 0 e attenzione a questo risultato perché perdere 4 a 0 lo Spezia o quantomeno che il Varese vinca 4 a 0 con lo Spezia credo che sia più che altro una dimostrazione di forza del Varese quindi attenzione a questo Varese che va senz'altro seguito dicevamo due sole vittorie interne 4 pareggi 5 le vittorie fuori casa la scorsa settimana hanno vinto fuori casa il Novara contro la Juve Stabbia volendo anche secondo pronostico il 2 del Trotone fuori casa contro il Latina che non era proprio facilissimo ha vinto il Brescia a Modena fuori casa 1 a 0 ha vinto il Siena fuori casa con la Regina 2 a 0 e ha vinto il Pescara sul campo del Lanciano per 1 a 0 quindi 5 successi esterni nell'ultimo turno di serie B velocemente per quanto riguarda i nostri orari soprattutto per ricordarvi le 4 emittenti sulle quali va in onda questo programma sul canale 19 Tele su Tele One praticamente il venerdì a mezzanotte e mezzo e sabato mattina alle 10 su Antenna 1 canale 185 il giovedì sera alle 23.30 su canale 196 c'è Video One il venerdì alle 19 mentre sul canale 641 c'è Tele Palermo giovedì e venerdì alle ore 23 vado avanti perché ho molte cose ancora da farvi vedere questo per esempio era ciò che vorrevo dirvi poc'anzi per quanto riguarda i migliori attacchi e le migliori difese in campo europeo noi in questa schermata stiamo esaminando praticamente i principali campionati europei esteri per esempio Inghilterra Germania Francia Spagna Olanda e Portogallo sia serie A sia serie B per quanto riguarda l'Italia oltre alle serie A e serie B analizziamo anche i quattro campionati di prima e seconda divisione per quanto riguarda i gol fatti la media più alta c'era in Manchester City nella Premier League inglese che ha segnato già 47 gol in 16 partite media di 2,94 segue il Real Madrid in Spagna anzi veramente seguono tre squadre spagnole Real Madrid Barcellona e Atletico Madrid il Real Madrid ha la seconda migliore media realizzativa 46 gol in 16 partite media 2,88 il Barcellona 44 gol sempre in 16 partite media 2,75 Atletico Madrid 43 gol in 16 partite media 2,69 seguono poi giusto per citarle il Bayern Monaco nella Bundesliga lo Sporting Lisbona nella Liga Portoghese il Liverpool sempre in Premier League soprattutto con i 5 gol che ha rifillato al Tottenham nell'ultimo turno di campionato il Twente e il Vitesse in Eredivisie cioè la Serie A olandese il Paris Saint Germain in Francia il Borussia Dortmund nella Bundesliga tedesca e l'Ajax in Olanda queste sono le prime 12 squadre che hanno la migliore media realizzativa e come vedete non ce n'è neanche una italiana vediamo invece le difese nelle quali troviamo diverse squadre italiane perché oltre alla Roma che ha come media in difesa ha subito praticamente soltanto 7 gol in 16 partite con una media quindi di 0,44 gol subiti a partite ed è la seconda migliore media difensiva tra tutte le squadre europee dei campionati che abbiamo citato se vediamo la schermata il Lille ha la migliore difesa ha subito solo 6 gol in 18 partite quindi media di 0,33 gol a partita la Roma dicevamo 7 gol però la Roma per esempio la settimana scorsa era in testa addirittura in tutta Europa perché aveva subito soltanto 5 gol in 15 partite mentre invece adesso 7 gol ha subito in 16 gara in media di 0,44 come come il Colonia tra l'altro che 8 gol in 18 partite sono 0,44 quindi queste sono le migliori difese ve le cito velocemente il Lille in Francia la Roma in Italia e tende a presente noi facciamo comandare la media quindi non è tanto il valore assoluto dei gol subiti subire 8 gol in 10 partite non è la stessa cosa che subirne 8 in 12 o 13 è chiaro che subisce lo stesso numero di gol di un'altra squadra la media chiaramente migliora se il numero di partite è maggiore quindi in questo caso facciamo comandare la media migliore difesa Lille poi la Roma di Colonia poi c'è la difesa del Bayern Monaco in Germania quella del QPR della Serie B inglese praticamente della Championship poi troviamo squadre italiane come migliore difesa nelle serie di prima e seconda divisione il Sant'Alcangelo nella seconda divisione A il Cosenza nella seconda divisione B la Provercelli in prima divisione A e la Virtus Centella in prima divisione A anche in questo caso dalle altre squadre che hanno buonissime difese troviamo nei campionati maggiori nella Serie B spagnola il Deportivo La Corugna nella Serie A spagnola l'Atletico Madrid questa è la situazione per quanto riguarda tutti i campionati principali europei andiamo agli appunti per le vostre scommesse e cioè andiamo a dare informazioni che possono esservi utili per stelare un vostro pronostico sia per gli amanti della statistica che per gli amanti insomma della parte tecnica in sé e per sé per quanto riguarda la statistica uno sguardo alla tabella che ci riassume i valori di under e over gol no gol pari e dispari sia in casa sia in trasferta io vi ho segnato già con il triangolino che vedete sulla vostra grafica sul vostro teleschermo i valori che contano in rapporto a dove giocherà la squadra in questione per esempio per quanto riguarda under over in casa ci sono pochissimi under fino a questo momento per il Cagliari in casa ha fatto un solo under e 7 over lo stesso digasi per la Fiorentina un solo under e 7 over io vi ho segnalato solo quello del Cagliari perché il Cagliari gioca in casa contro il Napoli mentre la Fiorentina giocherà in trasferta sul campo del Sassuolo quindi questo dato per la Fiorentina non ci interessa molto ci potrà interessare alla prossima partita che giocherà in casa la Fiorentina ma questa settimana la Fiorentina gioca fuori quindi ci interessa poco ecco perché vi segnalo il triangolo che di ripeto vi ricorda che il Cagliari giocherà in casa contro il Napoli nel prossimo turno e ha fatto soltanto un under e ben 7 over in casa fino a questo momento per la squadra sarda squadra sarda che per quanto riguarda anche i gol no gol ha fatto soltanto una volta no gol in casa e ben 7 gol attenzione mi dilungo ancora un poco su questa partita tra Cagliari e Napoli perché vi ricordo che è una partita molto sentita cioè Cagliari-Napoli è un po' una partita come come dire Fiorentina-Juventus insomma anche tra le tifoserie ci sono contrasti anche per le società insomma Cagliari-Napoli per il Napoli non sarà certamente una passeggiata o quantomeno troverà sicuramente una squadra molto agguerrita il Napoli a Cagliari e viceversa Cagliari cercherà di vincere questa partita cioè sarà una partita tirata ecco diciamo questo poi che vi dico che Verona che giocherà in casa contro la Lazio Verona in casa ha fatto due sole volte somme gol pari per il resto sei somme gol disperi andiamo alle squadre che giocheranno fuori casa giocherà fuori casa il Milan anche se insomma è un fuori casa un po' diciamo fittizio perché giocano sempre sullo stesso campo Inter e Milan quindi Milan in trasferta contro l'Inter vuol dire come se fosse in casa comunque ufficialmente il Milan è come se giocasse fuori casa il Milan fuori casa fino a questo momento stavamo notando un solo under e ben sette over sinora in trasferta per il Milan Milan che è in trasferta ha fatto pure sette volte gol gol e una sola volta no gol per quanto riguarda il gol gol invece si fa notare anche il Chievo il Chievo che dove lo troviamo il Chievo eccolo qua fuori casa contro il Torino gioca fuori casa e il Chievo fuori casa fino a questo momento come vedete ha fatto una sola volta gol gol e ben sette no gol questo potrebbe essere un motivo in più magari per giocare il gol gol in Torino Chievo e tra l'altro ci sta anche abbastanza bene come tipo di partita andiamo a dare uno sguardo alla serie B allora anche qui in serie B io vi ho segnalato con il triangolo le cose che ci interessano da vicino anche se qui vedo per esempio c'è uno zero in classifica sì c'è uno zero in classifica che per conto è il Lanciano addirittura ed è forse l'unico zero che c'è in tutti questi numeri sinora ma riguarda gli over in casa del Lanciano quindi questa è magari un'informazione che potete diciamo sì appuntarvi per la prossima partita del Lanciano quando tornerà a giocare in casa perché questa settimana il Lanciano giocherà in trasferta fuori casa sul campo dello Spezia quindi non possiamo sfruttare queste informazioni vediamo quelle invece sfruttabili in casa il Carpi sei volte ha fatto uno gol due sole volte gol gol attenzione il Carpi gioca in casa e gioca contro il Palermo quindi attenzione a questo gol gol di cui il Carpi fino a questo momento ne ha fatti davvero pochi dal tono del Carpi è anche la squadra che ha segnato meno di tutte fino a questo momento in casa soltanto quattro gol andiamo poi a pari e dispari somma gol pari la Ternana in casa ne ha fatti soltanto due e la Ternana giocherà in casa contro il Trapani quindi un'altra partita che ci interessa da vicino quindi attenzione alla somma gol pari che volendo potrebbe anche stare bene alla Ternana perché un Trapani che sta giocando abbastanza bene per adesso insomma somma gol pari per Ternana e Trapani ci può anche stare come pronostico fuori casa invece notiamo che ha fatto due sole volte gol gol fuori casa il Lanciano che gioca fuori in casa dello Spezia quindi attenzione al gol gol di Spezia Lanciano perché è in carenza rispetto agli altri dati delle altre squadre attenzione anche ai due soli gol gol per la Regina fuori casa Regina che però quest'anno sta giocando Maluccio gioca fuori casa contro il Cesena tra l'altro il Cesena è una squadra che ve lo anticipo già sin da ora è da seguire per quanto riguarda i gol fatti quindi per chi gioca sulle scommesse casa segna sì oppure fuori segna sì attenzione a questo casa segna sì per il Cesena perché dovrebbe essere il momento per il Cesena di tornare al gol credo che sia quattro settimane quattro partite che non segna quindi ci aspettiamo che venga casa gol segna per il Cesena andiamo avanti perché siamo negli ultimi 15 minuti di trasmissione credo uno sguardo alla Serie A allora Serie A classifiche no scusate perché siamo nelle squalifiche per la Serie A ci sono due giocatori squalificati nel Roma si tratta di De Rossi e Struttman poi troviamo un giocatore per parte in diverse squadre vediamo allora solo i più importanti se ci sono importanti insomma c'è per esempio Alvarez dell'Inter che non ci sarà nel derby contro il Milan Anderson della Lazio Montolivo capitano del Milan poi squalificato Bostian del Chievo Cassano del Parma ma attenzione perché per quanto riguarda Sampdoria Parma nonostante nel Parma manchi Cassano a me piace molto l'X2 lo vedremo tra poco quando parleremo delle quote poi c'è squalificato Quadrado della Fiorentina ho scoperto che ha un secondo cognome ed è tutto un programma perché bello quindi Quadrado bello della Fiorentina Quadrado che comunque sarà anche bello ma comunque in ogni caso è sicuramente bravo perché è uno dei giocatori pilastri diciamo sì di questa Fiorentina in attacco insieme al Rossi in modo particolare e comunque non ci sarà Quadrado nella Fiorentina poi squalificato Duncan del Livorno Farnerud del Torino che la scorsa settimana ha giocato molto bene squalificato anche Manolo Gabbiadini del Sampdoria Magnanelli del Sassuolo Rossettini del Cagliari e Spolli del Catania vediamo in Serie B invece qual è la situazione ci sono quattro squalificati sia nel Latina sia nel Lanciano anche se magari qualcuno di voi su Televideo avrà visto la notizia dei quattro squalificati della Latina io volevo ricordarvi che noi qui teniamo conto anche delle giornate precedenti cioè se un giocatore è stato squalificato per due o tre giornate diciamo sì ci sono non su tutti gli organi di formazione vengono riportate anche le squalifiche precedenti che il giocatore deve scontare quindi praticamente ci sono quattro squalificati nel Lanciano ce ne sono quattro nel Latina poi ci sono non sono neanche diciamo sì giocatori qualunque nel senso che qua c'è Cottofava c'è Siqueira del Latina c'è Fesson Siqueira quindi giocatore importante per il Latina nel Lanciano mancheranno Sepe manca Buckel diciamo giocatori di un certo peso Mammarella che deve scontare ancora una giocata che squalifica del turno precedente quindi quattro nel Lanciano quattro nel Latina poi come squalificati in Serie B un giocatore per parte che in genere non ha molta influenza a meno che non si tratta di giocatori veramente molto importanti che so io come potrebbe essere un Pavoletti nel Varese ma non si tratta di questi insomma Carini del Pato Paolucci del Siena Fossati del Bari Rigidi del Crotone Rea del Varese Signori del Modena e Val di Fiori per l'Empoli forse proprio questi ultimi due hanno un certo peso cioè Signori nel Modena e Val di Fiori nell'Empoli andiamo a vedere alcune quote e soprattutto per ora vediamo le scommesse suggerite questa settimana per quanto riguarda le scommesse per sabato considerando sia partite diciamo italiane che estere allora ci piace il segno 1 per Cesena e Regina ma soprattutto ci piace che Cesena torni a segnare dopo quattro turni di astinenza e sono tantissimi per una squadra che credo che sia già ancora in zona playoff poi Carpi Palermo ci piace l'over 1.5 cioè che vengono segnati almeno due golli in questa partita Livorno di Nesse ci piace la doppia chance x2 Novara Empoli doppia chance 1x e Manchester United due stem il segno 1 che volendo è anche abbastanza facile questi sono tutti e cinque risultati relativi a partite che si giocheranno entro sabato noi vi ricordiamo sempre di giocare con la correzione di un errore cioè anziché concentrare la vostra giocata che so io quanto è 10 euro che volete giocare anziché giocare tutti i 10 euro sulla cinquina giocate per esempio due euro sulle cinque quaterne cioè correggendo un errore uno delle cinque partite quindi le cinque quaterne da due euro anziché una sola cinquina da 10 euro stesso discorso per la scommessa di domenica dove ci piacciono l'over di Sassuolo Fiorentina ci piace l'over 1 e mezzo per Torino Chievo cioè che vengono segnati due gol in questa partita cosa nella quale il Chievo è abbastanza carente è stato abbastanza carente finora ci piace l'over 1 e mezzo di Paris Saint Germain Lille anche perché per il Lille c'è lo stesso discorso del Chievo ma d'altronde questa è una partita uno scontro al vertice o quasi perché il Paris Saint Germain è primo e Lille pare che sia terzo l'over 1 e mezzo magari non sarà pagato tantissimo però sarà pagato tanto per esempio l'over 1.5 di Grosseto Barletta in Avellino Modena invece ci piace escludere il pareggio in questa partita tra Irpini e il Modena anche in questo caso stesso discorso cercate di giocare con la correzione di un errore cioè cercare di essere vincita anche se sbagliato un risultato il nostro tristasse di questa settimana ormai sta diventando una cosa molto seguita molto attesa i nostri tre segni diciamo sì di tre risultati facili e sui quali giocare per vincere anche poco e cioè due volte e mezzo la posta in questo caso sono l'uno del Dortmund Borussia Dortmund in Germania che ospita l'erta Berlino l'uno del Monaco in Francia contro il Valenciennes e l'uno del Manchester United in casa contro il West Ham quindi questi tre segni uno sono tre dei tantissimi risultati facili quotati poco poco però che fanno vincere se pesi tutti e tre in questo caso due volte e mezzo la posta per quanto riguarda i nostri over 1.5 preferiti i sette risultati nei quali ci piace che vengano segnati i risultati delle sette partite nelle quali ci piace che vengano segnati almeno due gol e scegliendole in modo tale che mediamente la quota sia di 1.32 allora ci piace l'over 1.5 per Chievo Torino in Serie A sempre in Serie A anche per Atalanta Juventus anche se nella Juventus molti sperano che si possa allungare da 8 a 9 il numero di turni in cui Buffon non viene superato cioè non subisce gol poi in Serie B ci piace l'over 1.5 per Cesena Reggina e anche per Ternana Trapani poi abbiamo scelto una partita nell'Inghilterra Serie B inglese la Championship cioè Bolton-Charlton in Portogallo ci piace l'over 1.5 per Gil Vicente a Rucca e in Germania per Werder Brema contro il Bayer Leverkusen il Bayer Leverkusen anche la scorsa settimana ha perso in casa ha fatto anche perdere tante bollette a tanti giocatori ha perso in casa e adesso praticamente il suo distacco dal Bayer Monaco è di 7 punti per questo partito ci piace l'over 1.5 ci piace anche che il Leverkusen possa tornare immediatamente alla vittoria vi ricordiamo intanto per cominciare giusto per ricordarlo subito non giocate tutte e sette questi risultati anche qui fate la correzione di uno o di due errori cioè giocate sei partite su sette oppure sceglietene soltanto cinque già cinque partite di queste sette pagano quattro volte la posta sei partite già pagano 5,3 volte la posta quindi sappiatevi accontentare magari per esempio scegliete una partita che non vi piace molto come over 1.5 o magari una partita straniera perché non vi va di seguire oppure ne togliete due straniere l'importante ripeto che cercate di giocarle non tutte e sette la scommessa della quartina che paga questa volta quasi otto volte la posta l'uno del Bologna contro il Genoa l'uno del Siena contro il Latina l'X2 di Sampdoria Parma e l'over 1.5 per Torino Chievo vi ricordo che Bologna Genoa si gioca di domenica Siena Latina sabato Sampdoria Parma domenica e domenica si giocherà anche l'over su si giocherà Torino Chievo noi speriamo che possa essere over quindi questi quattro risultati pagano quasi otto volte la posta quindi una bella quota se qualcuna di queste partite non vi piace o non vi piace mettere una bolletta dove sono tutte partite la domenica una partita di sabato e la volete sostituire le due alternative che proponiamo sono in questo caso purtroppo pure di sabato perché insomma sono partite di serie B comunque in questo caso comunque un'alternativa se volete cambiare uno di questi risultati cioè Siena Reggina casa segna quindi che il Cesena segna almeno un gol oppure in Carpi Palermo l'over uno e mezzo andiamo avanti perché vorrei vedere le quote per Carpi Palermo Carpi Palermo la favorita è il Palermo la capolista quota 34 in testa Carpi Palermo il segno 2 è pagato a 2,40 l'X e l'1 sono pagati tre volte la posta anche qui continuiamo ad assistere a questa stranissima cosa per la quale il segno X e il segno 1 di una partita nella quale la scuola è in trasferta almeno stando alla classifica stando anche alle qualità tecniche dei giocatori è superiore però l'X è pagato alla stessa stregua dell'1 cioè che Carpi Palermo è anche un risultato volendo di base X o 2 ma Carpi Palermo è già un discorso completamente diverso eppure sono quotati alla stessa stregua l'1 e l'X del Carpi contro il Palermo hanno la stessa quota stiamo vedendo che l'over è pagato a 2 e 10 stiamo vedendo che pure è una buona quota all'X 2 che è pagato a 1 e 33 quindi un terzo della posta lo vincerete se giocherete sulla doppia chance X 2 e il Palermo non perde Ternara Trapani qui la situazione invece rispetta un po' le aspettative cioè l'1 della Ternara è il segno favorito pagato a 2 e 15 l'X a 3 e 10 il 2 a 3 e 40 anche questa è una partita nella quale l'over è pagato molto di più dell'under l'under vede 1 e 65 l'over invece è pagato a 2 e 10 a me piace molto la somma gol pari per Ternara Trapani che può essere presa anche se la partita non finisse in parità ricordo la somma gol pari è pagata 1,80 quindi è una buona quota e questa partita ricordiamolo si gioca di venerdì 20 dicembre andiamo avanti vediamo le quote del Catania quindi così abbiamo fatto le 3 siciliane favoritissima la Roma l'1 è pagato appena appena 1,20 l'X già paga 6 volte e 25 la posta quindi più di 6 volte la posta il 2 addirittura 13 volte la posta non esiste una quota per la doppia chance 1X a meno per quanto riguarda le quote match point l'under è pagato moltissimo a 2,25 l'over invece è il favorito pagato a 1,57 evidentemente questa è una partita che insomma il panostico lo dice già abbastanza chiaramente le quote lo dicono già abbastanza chiaramente è orientatissima verso il segno 1 vi faccio vedere le quote di tutta la serie A e poi qualcuna ancora nello specifico di serie B i quattro segni che mi sono sentito di suggerirvi nel ricordarvi che Cagliari Napoli e Livorno Udinese si giocheranno di sabato dicevamo ci piace l'over di Atalanta Juventus pagata 1,85 pagate la stessa la stessa maniera sia l'over che l'under di Atalanta a Juventus a noi piace l'over che è pagata a 1,85 di Bologna a Genova vi ho già detto ci piace il segno 1 pagato bene è pagata a 2,10 nel debito Inter e Milan ci piace l'under pagato due volte la posta e poi in San Doria Parma ci piace la doppia chance X2 che è pagata quasi mezza volta la posta cioè 1,48 1,48 significa che se giocate ad esempio 10 euro sull'X2 di San Doria Parma ne vincerete quasi 5 cioè 4,8 questo per la serie A vediamo la serie B nella serie B vi ho segnalato 6 risultati che ci piacciono in modo particolare anche qui trovo quote piuttosto altine innanzitutto vi ricordo che venerdì si gioca per Scarapadova si gioca anche Ternana Trapani domenica invece ora pranzo si giocherà Avellino Modena ci piacciono la doppia chance X2 di Brescia Varese pagata molto bene perché secondo me il Varese è anche leggermente più forte del Brescia sinceramente pagata 1,84 questa doppia chance X2 mi piace molto piace l'over anche per Cesena e Regina pagata 2,10 ci piace la doppia chance 1X di Cittadella Bari pagata 1,33 l'uno del Crotone sulla Juve Stabia mi stupisce e non poco devo dirvi perché la Juve Stabia ultima in classifica si ha necessità di punti tutto quello che vogliamo ma questo Crotone che è terzo in classifica contro l'ultima in classifica tra l'altro è un Crotone che viene alla vittoria 3-2 su un campo non facile sinceramente questa quota è molto ma molto strana devo dire perché in questo momento lo stato di forma delle due squadre dà nettamente favorito il Crotone e soprattutto non si può lasciare passare una quota di questo genere inosservata 1,85 per l'uno dei Crotone di Vestabia secondo me è regalato poi se non viene per tanti altri fattori tanti altri motivi o me lo sappiamo possiamo anche evitare di giocarci sopra molti infatti sospettano quando c'è una partita facile e vedono una quota alta sospettano e periscono evitare giocare io devo dire a 1,85 l'uno di Crotone di Vestabia ci sta tutto poi la doppia chance 1x di Novara Empori pagata a 1,47 devo dirvi che mi piace anche il segno 1 qui per Novara Empori comunque doppia chance 1x di 1,47 segnaliamo e poi l'uno del Pescara contro il Padova che è pagato a 1,80 vediamo se possiamo vedere alcune schermate con le quote delle partite di Serie A abbiamo ancora qualche minuto di trasmissione cominciamo con Bologna Genoa vi ripeto per la situazione di classifica delle due squadre Bologna a quota 12 il Genoa a quota 20 secondo me tutta questa grossa differenza non c'è tra queste due squadre anche se la classifica dice il contrario e soprattutto un Bologna imparagato già nelle zone basse della classifica insomma il segno 1 ci piace molto ed è quotato a 2,10 poi c'è Cagliari-Napoli vi ho già anticipato che questa partita è una partita molto sentita dalle due società e dalle due tifoserie vi ripeto è un po' la stessa stregua di Fiorentino-Juventus per chi conosce un po' i fatti che contraddistinguono sempre le partite tra Fiorentino-Juventus sia a Firenze sia a Torino però il Napoli non può perdere ancora altro terreno il Cagliari volendo è abbastanza tranquillo in classifica io vi dico la quota è favorevole per il Napoli il segno 2 è pagato due volte la posta il 2 del Napoli poi l'X a 3,40 l'1 a 3,60 diciamo che il Napoli dovrebbe avere qualcosa in più di questo Cagliari però ripeto è una partita molto sgorbutica sarà anche una partita molto tirata io preferisco a sterem dal pronostico per Cagliari-Napoli andiamo ad Atalanta-Juventus con la Juventus che non subisce gol da 8 turni 8 vittorie in queste ultime 8 partite per la Juventus 8 vittorie tutte senza subire gol realizzando 19 gol senza subirne nessuno gioca fuori a Bergamo la statistica potrebbe anche aiutarci e portarci a preferire anche una partita ricca di gol anche il gol in teoria prima o poi l'Eventus questa imbattibilità la perderà non sappiamo quando certo non durerà sicuramente tutto il campionato ma già a livello di 8 partite è un risultato che non me ne vogliono gli Juventini ma prima o poi si interromperà questa serie positiva di Buffon potrebbe succedere proprio a Bergamo il gol è pagato a 1,85 ma anche il no gol è pagato con la stessa quota il 2 è pagato pochino a 1,50 l'X 4 volte la posta l'1 6 volte la posta però il campo di Bergamo è sempre un campo un po' particolare quindi non lo so vediamo come andrà a finire l'Atalanta-Juventus ne parliamo poi lunedì il derby tra Inter e Milan eccolo qua molto equilibrate le quote l'1 dell'Inter a 2,60 il 2 del Milan invece a 2,65 l'X è pagato 3,30 eppure l'X è il risultato che io vedo con più facilità in questa partita per come stanno giocando entrambe le squadre per adesso alla fine io giocherò sempre la somma col pari non segno X ma ci potrebbe stare tranquillamente il pareggio in questa partita delle due squadre la classifica dice che in questo momento sta meglio l'Inter che ha 9 punti di vantaggio sul Milan ma non è detto ripeto che le cose siano così e poi i derby sfuggono sempre a qualsiasi pronostico io se devo giocare qualcosa farò giocando la somma col pari per l'Inter Milan vediamo le altre quote in quest'ultimo minuto di trasmissione di Vorno Udinese favorita l'Udinese il 2 è pagato a 2,30 l'X a 3,20 l'1 a 3,10 strano che l'1 addirittura sia pagato meno dell'X visto che si tratta di squadre che non dovrebbero rischiare più di tanto anche perché Guidolin ha già pure dichiarato che è disposto anche a farsi da parte e cioè a dimettersi se deve essere lui un pezzo per questa squadra sicuramente c'è qualcosa che non va in questo Udinese e non sono probabilmente soltanto i giocatori c'è qualcosa qualche attrito un po' dentro all'interno della società e quando è così è difficile fare panostici quindi mi astengo anche dal panostico di Vorno Udinese mi fermo soltanto su Sampdoria Parma prima di salutarvi per dirvi che mi piace la doppia chance X2 in questa partita che è pagata a 1,48 anche se manca Cassano nel Parma le quote dicono che è leggermente favorita la Sampdoria l'1 è pagata a 2,50 il 2 a 2,85 l'X a 3,10 e su questa schermata ci fermiamo ho appena il tempo di augurarvi delle buone festività prima di tornarci a vedere in video nella prossima nella prossima volta che dovrebbe essere praticamente nel nuovo anno ciao a tutti arrivederci